Ma se ci solleviamo, se controbattiamo, noi diventiamo barbari e loro diventano la legge. Se sopportiamo i loro colpi, sono loro i barbari e Dio e la sua legge sono con noi. Dio e la sua legge sono con noi. Siamo pronti, sergente? Vogliamo prima avvertirli, signore? Erano stati avvertiti. Nessuna sembra meno. Fuoco! Fuoco! All'alpezza d'uomo, con calma! Alla vostra sinistra! Fuoco! Alla vostra sinistra! Alla vostra sinistra! Alla vostra! Alla vostra sinistra! Alla vostra sinistra! Grazie a tutti.